Terzo appuntamento con il Mazzafrusto, Storie di Giostra, siamo venuti a trovare uno dei grandi protagonisti delle edizioni 2016 della Giostra del Saracino. Forse il più grande, al di là delle vittorie del quartiere di Porta Santo Spirito, che ovviamente hanno fatto storia, cioè Andrea Vernaccini, che si è tolto delle belle soddisfazioni nelle carriere dell'anno scorso, anche se non è arrivata la vittoria, che ovviamente non è un elemento secondario, però Andrea, il 2016 per te è stato un anno veramente fondamentale. No, è stato un anno bellissimo da parte non soltanto mia, ma un po' di tutto il quartiere, perché comunque i risultati che uno fa singolarmente non vengono mai perché uno è in forma o comunque c'è un lavoro dietro, ci sono tante persone che si muovono, anche se non sono sotto i riflettori come in quei giorni siamo noi, però ci sono allenatori, ci sono dirigenti, soprattutto ci sono le persone che quotidianamente sono con te, che passano in osservate, ma che alla fine credo che abbiano il contributo maggiore se un risultato viene, insomma. Per te dal punto di vista personale ovviamente è stato anche il momento in cui sei esploso come giostratore, dopo tanti anni nei quali comunque la tua passione per questa manifestazione ti aveva portato in piazza, e ti aveva portato ad essere apprezzato molto anche dagli addetti ai lavori. Ecco, hai avuto la sensazione che forse qualcuno ti abbia scoperto in quel momento, ma che in realtà le tue qualità si erano viste anche da prima? Ma sinceramente io so sempre un autocritico, qualcosa in più. Diciamo che sì, io ho sempre creduto di poter far bene, però ci sono state delle persone in primis che ci hanno creduto, perché senza di loro non avrei potuto avere la mia possibilità. E poi ci sono state le persone che hanno, oltre a crederci, mi hanno migliorato, più che altro hanno lavorato con me, hanno lavorato, ci hanno creduto e fortunatamente anno scorso sono riuscito insomma un po' a ripagare la loro fiducia, anche se ancora non sono né appagato né arrivato, c'è il lavoro è tanto, la strada è lunga, bisogna rifare più di anno scorso. La vittoria per un giostratore come te, con le tue caratteristiche, con le cose che hai fatto lo scorso anno, cosa significherebbe in questo 2017? Eh, significherebbe riuscire a coronare quel sogno veramente che hai fin da quando sei bambino, da quando magari sei al quartiere che pulisci le scarpe, che non ti immagini che insomma potrebbe succedere a te. E ora ho questa fortuna, è una cosa che ho sempre sognato, quindi spero veramente di potercela fare. Sì, tanto è una delle cose che colpisce di più durante il corteo storico, e lo viene spesso sottolineato, l'applauso che ti fanno i tuoi ex quartieristi di Porta Crucifra, una cosa che in qualche caso forse fa venire anche un po' di mal di pancia ai giostratori attuali del quartiere. A te che effetto fa e soprattutto hai anche la sensazione, come io credo sia vero, che al di là appunto dell'appartenenza di quartiere tu sia un personaggio che per la passione che metti sei comunque apprezzato da tutti. Ma senti, quel momento lì è una cosa che ti fa venire la pelle d'oca, cioè io li ringrazio infinitamente per quello che hanno fatto, per l'affetto che mi hanno dimostrato, perché è un quartiere che comunque, cioè a me è rimasto anche nel cuore, perché mi ha dato la possibilità di esordire, mi hanno sempre fatto sentire importante e vedere che dopo che comunque hai cambiato casacca o tu comunque ti dimostrano affetto è una cosa che penso che, cioè non mi viene neanche il termine perché è veramente bella, è veramente bella. Forse me lo fanno perché io non l'ho mai nascosto che non le portano il foro, cioè quindi non è che, però sapendo che comunque sono venuto nel mio quartiere dove sono nato, forse credo che non l'abbiano presa neanche così male. Comunque io li ringrazio e ogni volta che posso lo voglio rimarcare perché è veramente una bella cosa, cioè li ringrazio ancora perché, te l'ho detto, tutto mi aspettavo meno che una cosa del genere, ecco, quindi è bellissimo. Non è che questo inverno ti hanno anche ricercato per caso? Ma no, 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 io ci provo ovviamente. No, 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 cioè si è sentita qualche voce, però lascia un po' il tempo che trova, insomma, io sono nato a Porta del Foro, ho la fortuna di poter correre per il mio quartiere, quello che ho nel cuore, quindi neanche c'è l'opportunità, insomma, di dire, cioè a me mi hanno dato questa possibilità, io non mi vengono neanche le parole, è il mio quartiere, cioè neanche basta per l'anticamera del cervello di dire un giorno potrei cambiare, se riesco a togliere le mie soddisfazioni con il mio quartiere, ben venga, altrimenti vorrò dire che vorrò con te una volta a fare la telecronica, dai, un poco ma sicuro, quello un ingaggio ce l'hai di certo. Parliamo un attimo di questo inverno di lavoro, com'è stato, ovviamente un inverno che per Porta del Foro è stato caratterizzato dal fatto che il preparatore, Emanuele Formelli, è passato a Porta Sant'Andrea, quindi non avete avuto più il suo apporto, quali sono le tue sensazioni? Ma è stato un inverno come gli altri, di lavoro, siamo messi subito, dopo la notizia di Emanuele, siamo rimessi subito al lavoro, insieme alla Serena, che tutte le settimane abbiamo curato l'aspetto dei cavalli, tutte queste cose qui, come sempre, al lavoro, non ci siamo fermati un attimo, ovviamente dispiace che non ci sia Emanuele, perché comunque sia oltre il lato tecnico, siamo rimasti anche molto amici, quindi si era creato un rapporto veramente che va al di là dei colori, al di là della giostra, oltre che professionale, perché io lo ritengo, non un professionista, lo ritengo il professionista, cioè uno che prende a cuore il suo lavoro, è uno che ti segue sempre, quindi è chiaro che il suo, tra virgolette, a Porta del Foro dispiace come giostratore, perché comunque era sicuramente una persona molto valida, però dal lato d'amicizia non c'è nessun problema, io lo stimo tanto, è un amico e gli faccio in bocca al lupo. Ecco, un'ultima battuta qui, c'è il tuo capitano Dario Tamarinda, quale fra poco chiederò se ha scelto chi affiancarti nella giostra di giugno, alla quale ormai mancano poche settimane. Tu pensi che ti chiederà un consiglio prima di prendere questa decisione, oppure no? Ma io penso di no, io penso di no, perché ormai c'è una pellaccia dura che gli fa paura a niente. Io credo che pondererà la sua decisione insieme al suo staff, insieme al quartiere, ma sono cose che a me non competono, ma ho talmente fiducia in Dario che qualsiasi decisione prenderà per me sarà quella giusta, nel bene e nel male. Grazie, andrà in bocca al lupo. Crepi, grazie. Per parlare con Dario Tamarindi ho chiamato anche la mia spalla Andrea Lanzi per vedere se in due riusciamo a carpire questo segreto che un po' tutti ovviamente attendono di scoprire, perché Porta del Foro e Porta Crucifera, bisogna dire, sono i quartieri che devono ancora svelare le proprie carte per quello che riguarda le coppie di giostratori. Ora Porta Crucifera forse la deve svelare al 100%, per Porta del Foro diciamo un 50% di certezza invece c'è a dare. Insomma, chi segue la giostra sa perfettamente quello che sta succedendo, quindi comunque sa che Porta del Foro deve scegliere un ragazzo da affiancare ad Andrea e noi abbiamo due validissimi giostratori. Perché stiamo aspettando? Semplicemente perché fortunatamente ci troviamo nelle condizioni di dover vedere ancora, perché si equivalgono talmente tanto in tutto che diventa veramente difficile e ovviamente è una cosa buona perché il quartiere comunque Andrea ha ai suoi anni che non è vecchio però comunque lui è un giostratore che è alla fine proiettato verso una conclusione mentre questi due ragazzi sono quelli che poi andranno sicuramente o prima o dopo a giostrare insieme. Quindi è normale che stiamo aspettando, anche io sono tra virgolette curioso, forse nel primo curioso perché non rendendomi ancora bene conto, anche se le idee sono abbastanza chiare, però ecco voglio vedere ancora gli ultimi particolari. Purtroppo il tempo non ha aiutato, gli allenamenti sono andati un po' a rilento, quindi anche per le condizioni climatiche, quindi ecco mi voglio prendere tutto il tempo che è necessario. Poi loro devono abituarsi anche un po' a questa attesa perché l'attesa fa parte della vita, non fa parte soltanto della giostra del Saracino, quindi devono mantenere la calma, la tranquillità, la serenità, è un gioco, la vita delle volte ti mette davanti a attese forse anche più gravose di questa, quindi questa deve essere presa nel modo migliore. Ad Andrea Lanzi chiedo una valutazione su questa scelta che il quartiere di Porta del Foro deve fare. Intanto diciamo che registriamo la novità perché altre volte i quartieri si sono mossi con una tempistica diversa, quindi Dario diceva fortunatamente abbiamo a che fare con due ragazzi che si equivalgono e aggiungo io perché credo che sia così, si equivalgono anche in positivo, cioè non è che stanno facendo una scelta al ribasso, stanno facendo una scelta al rialzo. È chiaro che è un nuovo sistema quello di aspettare che ha una sua logica come del resto anche una sua pericolosità perché molte volte i quartieri diciamo cercano di trasmettere viceversa questa tranquillità al giostratore che poi andrà a affrontare, e qui invece si cerca di trasmettergli quella sensazione più di grinta che dovrebbe avere colui che andrà a affrontare queste giostre. Ha una sua logica come ha la logica, come dicevo prima, di scegliere presto. Vediamo se questo tipo di politica porterà dei vantaggi a Porta del Foro che comunque si presenta comunque sia con una coppia che sulla carta, ma aggiungo anche più sulla carta, tutte le caratteristiche per comunque giocarsi la giostra. Se poi ci mettiamo che sono tanti anni, quindi anche la statistica dovrebbe portare a favore di Porta del Foro perché insomma non è che in questi anni non se la sono giocata la giostra. Vengono da 4-9 consecutivi, ci aggiungo anche l'esordio della coppia Vernaccini-Carboni che comunque fece 8 e fece rimanere il quartiere in giostra e ha fatto fare un esordio importante. Quindi è un quartiere che ultimamente si sta giocando le giostre, quindi anche statisticamente credo che possa essere l'anno buono per arrivare alla vittoria. Prendi chiudere vorrei sapere perché ti sei voluto mettere vicino a Brighel? Perché è un cavallo che mi piace molto, è un cavallo che ha dimostrato in piazza di essere fra i cavalli più accreditati. Quando un cavallo ti fa far 5, al di là della bontà del giostratore, comunque ti ci ha portato questo cavallo a fare una prestazione del genere, credo che sia doveroso dargli onore a una cavallina che la ritengo molto interessante e molto funzionale in questo gioco. Grazie a Andrea Lanzi, grazie ovviamente anche a Dario Tamarindi, grazie a Andrea Vernaccini che ci ha ospitato qui. Chiudiamo questa terza puntata del Mazza Frusto e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Mazza sta spingendo, ora lo porta sotto, va a colpire e colpisce il centro, Magneto!